Salve a tutti siamo qui con un nuovo video e in questo video continueremo la serie su LSPDFR in questo episodio ragazzi beh ci troviamo a Northampton in un nuovo ambiente in realtà abbiamo già fatto un video tempo fa, molto tempo fa uno dei primi episodi di LSPDFR in cui eravamo dei carabinieri a Northampton quindi ho pensato perché non proporvi la polizia a Northampton ora i compiti saranno praticamente molto molto simili ma ci sono tantissime cose nuove da esplorare innanzitutto Northampton si è popolata parecchio non so se lo vedete ma ci sono un sacco di nuovi edifici hanno investito molto e adesso è diventata una città vera e propria per questo c'è bisogno di un corpo di polizia molto molto migliore di quello che era precedentemente presente detto ciò ragazzi è qua che veniamo noi in aiuto quindi adesso sono contentissimo guardate abbiamo una nuova auto bellissima della polizia molto molto bello con la neve sopra incredibile fa freddissimo questa è l'unica uniforme che mi è stata fornita quindi a parte i guanti il resto diciamo che è al limite perché non è più il giaccone come quello che avevamo una volta però ragazzi adesso saliamo sul nostro veicolo sarà molto interessante naturalmente è una città piccola quindi non mi aspetto grandi crimini come a Los Santos però è sempre una città e ce ne sono anche qui perché purtroppo molte persone di Los Santos vengono qua e pensano di fare qualsiasi cosa vogliono perché pensano che qui non ci sia effettivamente della polizia che controlla o comunque qui si possa fare quello che si vuole ma in realtà non è affatto così quindi allora monitoriamo la situazione vediamo se dalla centrale arriva qualcosa come vedete non siamo ancora stati chiamati da loro quindi probabilmente non è così grave come a Los Santos che ogni secondo c'è una chiamata praticamente vedete qua ci sono dei lavori in corso probabilmente per delle tubature o robe del genere ma dovrebbe arrivare un treno tra poco perché ci sono i lampeggianti accesi ok non ne ho idea non so perché ci sono se poi non arriva un treno ma niente io direi che ragazzi aspettiamo che arrivi qualche chiamata ok e poi magari così possiamo già vedere che cosa fare ok abbiamo ricevuto una chiamata c'è un'ambulanza che ha bisogno di essere scortata probabilmente all'ospedale proviamoci intanto non abbiamo niente da fare aiutiamola quindi non so io passo attraverso i binari anche se le luci sono accese non ne ho idea qua ragazzi è l'ambulanza uuuh mamma mia intanto è difficile guidare sulla neve perché si scivola continuamente poi eccola qua quindi dobbiamo portarlo al centro allo Santos Magol Center cosa? evitiamo evitiamo di rispondere a questa chiamata perché ragazzi guardate come si muove la mia auto guarda oddio bellissimo bellissimo guidare qua è assurdo anche se abbiamo le gomme da neve anzi addirittura abbiamo le catene non si riesce comunque ad andare dritti però purtroppo dobbiamo abbandonare quell'ambulanza perché c'è un ospedale anche a Northampton ma non so perché bisognava accompagnarla fino allo Santos quindi direi di evitare assolutamente vediamo se c'è qualcos'altro purtroppo qua è molto tranquilla la situazione non ci sono non ci sono gravi non lo so non c'è nessuno in giro però guardate che figata tutta l'ambientazione con la neve gli alberi innevati molto molto bello vero? vedete ci sono un sacco di palazzi nuovi che adesso andremo sicuramente a vedere che cosa diamine è successo qua sembra che si è esploso tipo un tetto non so chi dia oh ok continua ad esplodere qualcosa non so che cosa ma continua ad esplodere qualcosa comunque ok ragazzi qua è successo qualcosa di abbastanza grave da quello che vedo aspettate un secondo prendiamo la pistola un secondo perché ci sono dei poliziotti a terra qui ci sono dei poliziotti a terra ci sono delle persone che stanno minacciando ci sono delle persone che stavano minacciando quei due poliziotti mi sa che abbiamo appena fermato qualcosa involontariamente non so perché la centrale non c'ha oh c'è un altro dietro c'è un altro dietro guardate ragazzi stavano cercando di robare tutto quel sacco di soldi probabilmente dalla banca di Northampton e volevano fare una rapina per fortuna sono arrivato probabilmente abbastanza in tempo come vi dicevo non so perché la centrale non c'ha informati forse perché non sono riusciti ad avvertire la centrale questi uomini diamine una cosa che probabilmente hanno fatto qua sembrerebbe aver fatto cadere un albero apposta addosso a un veicolo della polizia e poi in questo modo sono riusciti a bloccare il convoglio e poi ad attaccarlo improvvisamente quindi io avrei bisogno di un'unità EMS locale per tutti gli uomini che sono qua a terra e poi magari forse avrei bisogno di un coroner perché non so chi sia vivo e chi sia morto mi sa che abbiamo ucciso qualche persona qua quindi chiamiamo anche un coroner grazie ok dovrebbero arrivare tecnicamente tra pochissimo torniamo nella nostra auto intanto per avere un coroner o per avere un'altra cosa sono biblici i tempi semplicemente per il fatto che appunto bisogna chiamarlo da un'altra parte completamente della città e ce ne sono veramente pochi a disposizione per quello comunque uno adam12 risponde a un codice 2 sembra che ci sia un civile in bisogno di aiuto vediamo di che cosa si tratta vedo un'auto che sta andando a sbattere da qualche parte ma non so se è lui oppure è questa signorina qua vediamo un po' se possiamo parlare con lei togliamo la pistola guardate che strana non ho mai visto una persona del genere ha dei tatuaggi tipo in testa piercing ovunque non riesco ad avere un taxi in questo momento ok di taxi a Northington non so quanti signorina le vuole avere lei e vuole sapere se siamo noi che possiamo trasportarla a casa sembra un po' fatta da funghetti allucinogeni il che la renderebbe non molto compatibile con il mio stile di vita ma vediamo un secondo che cosa potrebbe non so che cosa rispondere sinceramente voglio semplicemente capire tutto quello che perché non posso fare niente non posso interagire nel nulla posso solo chiedere due domande vabbè allora terminiamo qua se ne va da quel paese signorina mi dispiace però non saprei veramente come accontentarla mi dispiace tanto vediamo ragazzi se c'è qualcos'altro intanto c'è questo tizio che finalmente è riuscito a uscire da quel guardate come c'è ragazzi guardate come scivolo qui ok poi quando c'è l'asfalto abbastanza pulito che come vedete c'è la neve ma questo sole la sta sciogliendo tutta per strada perché adesso veramente è una bellissima giornata oggi quindi siamo praticamente solamente noi qua è un po' un po' triste boh a questo punto non ne ho idea vediamo la centrale ok anche se la forzo ragazzi non ci non vengono chiamate quindi meglio cioè non c'è molto crimine qua vediamo se c'è qualche auto parcheggiata male a cui possiamo fare la multa a questo punto perché se no il nostro lavoro è semplicemente di rimanere in stazione a girarci pollici a mangiare ciambelle allora da quello che vedo io qui si tratta della centrale elettrica della città uh ok un'altra cosa abbastanza grave ragazzi vedete succedono delle cose ma io non vengo informato ad esempio quest'auto che gli stanno facendo pure la foto e guardate è finita contro probabilmente scivolata con la neve con questo ghiaccio uh ok anch'io sono appena scivolato è finita completamente lì in mezzo alla neve così guardate che figata ragazzi bellissimo ma ora c'è un carro attrezzi già qua quindi probabilmente ci staranno pensando loro penso che il tizio che sia rimasto incidentato abbia già chiamato lui il carro attrezzi è tutto quello che serve magari anche un suo amico quello col carro attrezzi quindi non mi pare che ci siano troppi problemi volevo fare una multa ma in realtà è un carro attrezzi che è in servizio quindi meglio meglio evitare qua non c'è assolutamente nulla c'è un tizio che vende frutta sarà frutta congelata ormai completamente prima vado ad andare qua a destra sembra una bellissima stradina limite di velocità 35 come vedete ci sono delle case che sono completamente sommerse dalla neve neve spalata in realtà qua poi è bellissimo ragazzi guardate che che posto c'è quanto è figo sta cosa guardate la strada così stradina di 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 vabbè ragazzi io direi di tornare perché qua non c'è molto per noi non c'è molto in generale guardate che figo cioè io mi diverto di più a driftare con quest'auto in questi posti qua piuttosto che effettivamente monitorare la situazione cosa c'è da monitorare assolutamente niente magari ci mettiamo qua pattugliamo se c'è qualcuno che passa in auto ad esempio qui vedete ci possiamo sistemare qua se passa qualcuno a tutta velocità o fa qualcosa in particolare siamo pronti a rispondere immediatamente se no ok ragazzi rispondo a una chiamata c'è un criminale che sembra che stia resistendo all'arresto questo significa appunto che non vuole essere arrestato nonostante probabilmente debba essere arrestato sta scappando in poche parole e ora dovremo cercare di risolvere la situazione vediamo dovrebbero esserci già degli agenti sulla zona proviamo di qua sembra che tutti i crimini avvengano davanti alla chiesa incredibile ok eccoci qua vediamo dove si trovano i criminali uuu oh diamine oddio ragazzi qua nella neve fresca non riesco neanche ad avere un piccolo controllo ma eccoli qua sembrano due gangster c'è un'auto uh sono inciampati o scivolati sembra uh ok 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 fermi 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 potrebbero essere armati ragazzi quindi fermi fermo dove sei mani in alto mani in alto mani in alto mani in alto vediamo l'altro non dobbiamo farcelo scappare vediamo se riusciamo ad inseguirlo inseguiamolo inseguiamolo tanto questo qui probabilmente si blocca qua ragazzi la situazione positiva è che si scivola e quindi loro probabilmente scivoleranno prima di arrivare alla fine la situazione negativa è che purtroppo anzi positiva di nuovo è che non hanno la macchina perché ho visto era una macchina da corsa in realtà con questa neve una macchina da corsa non è il massimo però guardatelo alla neve tipo fino alle ginocchia quindi probabilmente sarà sicuramente rallentato nella sua corsa e lo stiamo raggiungendo piano piano vediamo di sparare un colpo magari si ferma fermo 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 ok 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 gli ho colpito il piede gli ho colpito il piede sembra voler continuare sembra voler continuare probabilmente siamo gli unici agenti nella zona adesso ho chiamato un altro agente ancora quindi mi serve backup per questo signore che sta scappando ormai troppo eccolo qua eccolo qua inciampato eccolo qui che è inciampato ok perfetto tutti scivolano tutti inciampano bene ce l'abbiamo fatta quindi non so la gente si trova dentro questi capannoni dopo andremo a vedere però mi sembra che ora come ora sia incastrato questi capannoni secondo me sono molto interessanti da visitare perché potrebbero anche non lo so secondo me sono un buon punto per lo spaccio per metterci cose illegali sicuramente perché guardate un po ci sono delle case sembrano abbandonate e anche un fienile e poi qua ragazzi c'è una casa che è di nuova costruzione quindi non lo so sembra non arriva oh non è finito ragazzi però non è finito non abbiamo finito con aspettate che c'è la neve che mi sta veramente ok proviamo ad andare sui binari so che arriva il treno ogni tanto però proviamo a tornare alla nostra macchina perché non è finito l'inseguimento apparentemente c'era qualcuno sicuramente nell'auto da corsa che abbiamo visto prima quindi dobbiamo arrestare anche loro per essere sicuri non so bene che cosa sia successo è un altro agente vedo una persona scappare ho visto una persona scappare due persone scappare a piedi le vedo lì le vedo in fondo alla strada vicino alla nostra macchina quindi sono le due persone che dobbiamo cercare di arrestare non so bene per quale motivo in realtà però probabilmente hanno rubato qualcosa o hanno fatto dei crimini ed era un attacco gang quindi dobbiamo rispondere immediatamente eccoci qua al nostro veicolo ho fatto una corsa che non ho mai fatto una corsa del genere in vita mia aspettate che dobbiamo salire immediatamente non mi fa salire non mi fa salire sul nostro veicolo si è incidentato è rimasto bloccato lì vediamo se riusciamo a salire su ok c'è una macchina dei gangster qua una bullet prima che loro riescono a scappare cerchiamo di raggiungerli ok hanno messo la musica al massimo uuuh mamma uuuh mamma non va oddio senza le catene è tutta una cosa diversa attenzione 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 dobbiamo cercare di inseguire quei due uomini che stanno prendendo strade diverse il che rende tutto più complicato quindi cerchiamo di chiamare due unità locali ok ragazzi sembra che siano riuscite ad arrestarla eccolo qua ok una donna sembrerebbe essere una donna perfetto ci sono due anzi tre agenti della contea che è veramente strano in questo luogo però probabilmente abbiamo chiamato loro perché non abbiamo agenti locali disponibili almeno questa è stata arrestata e una è fatta adesso rimane l'ultima persona ad arrestare vediamo se la riusciamo a raggiungere prima che scappi ok eccolo lì eccolo lì lo vedo lo vedo lo vedo sta in completamente in una piano ok questo è un campo è un campo coltivato eccolo qua l'abbiamo raggiunto ragazzi l'abbiamo raggiunto può fare ben poco ormai può fare mi si è girata completamente la macchina non ha assolutamente le gomme adatte per questo tipo di terreno ma vediamo se lo riusciamo a fermare fermiamo questa corse folla inutile ok ok ha perso un po di sangue in realtà però fermiamolo immediatamente fermo dove sei fermo dove sei mani in alto mani in alto detto mani in alto ok ce l'abbiamo fatta ragazzi tutti i sospetti sono a terra wow no si sta prendendo la macchina si sta prendendo la macchina perché non sono riuscito a dare no fermo 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 sparo fermo sparo fermo ok oh finalmente a terra va mettiti a terra mamma mia ragazzi è stato il tizio più difficile da arrestare di tutta la mia vita vedete anche se lo arresto questo qua poi oh brandon perry finalmente ti ho in pugno bene chiamiamo un trasporto locale per portarlo via va e mi prendo pure la tua auto alla facciaccia tua eccoti qua perfetto comunque ragazzi bene il sospetto è stato ok portato via adesso se riesco ad andare dritto magari mi farei un piacere da solo torniamo alla centrale e vediamo di cambiare auto perché la nostra purtroppo ormai è inutilizzabile quindi prendiamo un altro veicolo oh abbiamo preso un veicolo leggermente migliore forse questo dovrebbe andare meglio tecnicamente aspettate che mi devono aprire il cancello vediamo se ci sono altre cose ragazzi purtroppo sembra che solamente in un punto riceviamo le chiamate il che è un po strano in realtà non non mi piace molto però c'è un agente che ha bisogno di assistenza vediamo di che cosa si tratta non mi ricordo l'ultima volta come siamo riusciti ad avere le chiamate così diciamo a northington perché qua sembra che vengano solamente qui e non sempre nemmeno perché non riesco a capire ah eccoci qua supportiamo gli agenti locali perché sembrerebbe che ci sia u grazie per essere venuti così veloce il mio partner ti spiegherà meglio quindi ci sono queste due ragazze c'è un auto della polizia in incognito da quello che vedo e poi c'è anche un altro agente qua salve jonathan e alissa qui sembra che hanno avuto un una lite il loro nomi sono jonathan huckley e alissa martin ok quindi quello che mi chiedono è di tornare il nostro veicolo aprire il computer della polizia e poi direi di tornare da loro a spiegargli bene di che cosa si tratta quindi abbiamo i nomi dei sospetti ok allora erano jonathan e alissa jonathan huckley e alissa martin proviamo con alissa martin prima di tutto perché ok jonathan è quello un po più difficile da chiamare vediamo un po che cosa abbiamo per lei ok non abbiamo trovato niente quindi sembrerebbero essere dei nomi falsi jonathan secondo me non sono veri anche i documenti sembrano falsi l'altro era aspettate che me lo devo ricordare perché ho una memoria veramente corta ok jonathan huckley neanche qua abbiamo trovato niente ragazzi quindi sembrerebbero effettivamente delle persone con dei nomi falsi apparentemente aspettate un secondo ok usciamo da qua vediamo di parlare ai poliziotti dato che non abbiamo trovato assolutamente niente nei nostri registri ok quindi lui sembrerebbe essere jonathan huckley è lui che è finito in una rissa con alissa che era ragazzi non so quale sia alissa in realtà delle due cioè ci sono due donne una bionda e una scura mora e non so quale delle due sia alissa anche perché poi hanno dei nomi strani finti quindi non so bene comunque dobbiamo arrestarlo apparentemente dammeli d vediamo un po come ti chiami veramente non ce l'ha non non ha un id guardate non mi da niente ok arrestiamolo arrestiamolo questo non so prima lo arrestiamo e dopo facciamo domande dopo così vediamo a jeffrey brown perché prima ti sei chiamato jonathan cosoli vediamo lei invece che gira qua attorno da troppo tempo e mi puzza un po la situazione poi soprattutto sapete perché mi puzza la situazione ancora di più è in canotta e piedi scalzi cioè vi rendete conto ci sono meno due gradi qui perché oggi c'è il sole ma è in canotta e piedi scalzi oh 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 ferma 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 dove sei ferma dove sei ferma dove sei ok ha tentato avete visto ha tentato di picchiarmi ha tentato di picchiarmi ferma a terra ok già una cosa è successa perfetto mike city ti chiami mike con un nome da maschio mike city e jeffrey brown abbiamo bisogno di un multitrasporto grazie l'altra tizia l'ha portata via il nostro collega e sembra essere tutto a posto ora mi sa che li dobbiamo portare noi forse in centrale perché arriverà al multitrasporto immagino va bene aspettiamo anzi lo portiamo noi in centrale che ne dite così almeno facciamo tutto più velocemente perché qua per arrivare un trasporto ci vuole mezz'ora ok ragazzi ecco fatto l'abbiamo consegnato qua è molto più semplice rispetto che allo santos lo consegniamo qua poi ci penseranno altri agenti direi di tornare a pattugliare ancora un po che ne dite perché in realtà non abbiamo ancora fatto un inseguimento mi piacerebbe fare un inseguimento ok mike zitti e jeffrey brown intanto sono stati portati alla centrale come vedete abbiamo portato noi jeffrey brown e mike zitti è stata portata alla nostra collega a posto questa è stata fatta aspettiamo una nuova chiamata allora mettiamoci intanto sul ciglio della strada ok ragazzi mi sa che abbiamo una nuova chiamata si sembra di sì c'è una gara clandestina non so perché una gara in queste zone però è quello che sembrerebbe essere successo andiamo a controllare non so nemmeno come ci sia una gara qua in realtà come vedete è passato un bel po di tempo e la situazione si è scurita ok ok vedo le due auto coinvolte u addirittura wow di faccia di faccia c'è una nonna che sta cercando di scappare verso il cimitero ci sono un bel po di auto qua in realtà però ok ok cerchiamo di fare slalom tra le tombe cerchi oddio mi sa che lei finirà qua tra queste tra pochissimo se continua così ok sta sta camminando sopra le tombe è inciampata sopra una tomba e si è fermata completamente cerchiamo di non recare danno a niente ok ci siamo bloccati ci siamo bloccati da qua si continua a piedi ragazzi continua ad inciampare per fortuna che ci dà un vantaggio niente meno che impressionante eccoci qua ce l'abbiamo no come ha fatto è passata traverso il cancello ok vediamo 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 ferma 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 dove sei signora ferma dov'è ferma dov'è che io posso anche sparare sono pronto a sparare ferma bene una è andata ci sono molti veicoli in realtà una però è andata perfetto arrestiamola immediatamente kate canna premiamo 8 chiamiamo un trasporto intanto andiamo agli altri chiamiamo unità locale almeno due per lì in seguimento di quei due tizi lì torniamo al nostro veicolo se possibile dobbiamo assolutamente cercare di sbloccarlo da qua no 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 davanti non me frega niente di quella andiamo davanti ok ok bene 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 retromarcia piano 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 togliamo anzi lasciamo le sirene va lasciamo le sirene vediamo di uscire dalla stessa parte in cui siamo entrati perché è molto importante che subiamo bene aia ok sono andato a sbattere contro una tomba per pazienza e ok eccoci qua siamo fuori dal cimitero almeno questa è una buona notizia e vediamo se riusciamo ad inseguire le ultime due auto che mancano stanno correndo contro un muro perché non sanno come raggiungere gli altri due tizi ok e hanno ragione non è molto facile eccoli qua sono scappati a piedi apparentemente tutti e due tutti ragazzi abbandonano il veicolo e quando sono inseguiti dalla polizia vanno in campo aperto come se noi non potessimo raggiungerli eccoli qua eccolo qua quello che sta correndo sembra un ok fermo oh l'abbiamo colpito malissimo questo fermo accipicchia ok no pensavo fosse rimasto a terra per sempre invece a quanto pare no fermo 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 ehi fermo questo lo chiamo lo sgambetto questa mostra ragazzi mi piace un sacco mani in alto ma mani in alto ho detto se no sparo sparo eh sono pronto a sparare noi non abbiamo in dotazione il teaser quindi eccoti qua fermo fermo dove sei oh là ce l'abbiamo fatta ad arrestarlo ha un caschetto guardate che figo ragazzi è un caschetto da moto tipo con un bersaglio al centro è un bersaglio lui e infatti hai scelto il colore giusto per quel cappello sei un bersaglio devan patterson ok cerchiamo di acchiappare l'ultimo acciuffare l'ultima persona che è rimasta l'ultimo problema che abbiamo e poi li abbiamo acchiappati tutti e tre ok una cosa positiva siamo tornati per strada almeno vediamo vicino al banner hotel eccoci qua c'è l'ultimo sospetto della giornata e lo abbiamo perso ancora no ancora non l'abbiamo perso eccolo 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 lo prendiamo ragazzi lo prendiamo prendiamo anche l'ultimo prendiamo anche l'ultimo ed eccolo qui ce l'abbiamo in pugno ora ci troviamo naturalmente sui binari del treno quindi non sarebbe ok non sarebbe la cosa migliore da fare gli siamo passati sopra gli siamo passati sopra fermo 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 detto ho detto fermo fermo devo sparare sempre ogni cavolo di volta devo sparare ti volete fermare ok l'ho ucciso oddiamone l'ho ucciso ragazzi sospetto morto due sospetti in custodia un sospetto morto gara stradale codice 4 è finita penso che questa giornata stia quasi per finire vediamo se c'è l'ultimo crimine e poi possiamo finalmente riposarci con una cioccolata calda oppure se dobbiamo rimanere ancora in servizio ma penso che penso che facciamo l'ultima chiamata e poi abbiamo finito ragazzi che ne dite ok ragazzi si eccola qua l'ultima chiamata della giornata bene quindi queste sono chiamate più comuni del previsto in realtà purtroppo soprattutto anzi anche in questa città anzi soprattutto quasi in questa città si tratta di intossicazione quindi vede un uomo col coltello che sta cercando di ferire un agente della polizia con un coltello non so se l'avete visto non so perché l'agente non si è eccolo qua ha preso il coltello l'abbiamo tolto da quest'uomo che sembra essere probabilmente o drogato o ubriaco penso più drogato perché un ubriaco non farebbe queste cose Geniel Jopic quindi a lui dovremmo fare naturalmente il test è una persona intossicata almeno secondo quello che ci ha dato la centrale che corrisponde a quello che le persone hanno chiamato cioè quello che le persone hanno informato i poliziotti sembrerebbe essere lui vediamo se riusciamo a trovare droga o altre sostanze abbiamo trovato delle chiavi affilate un id dimenticato un telefono una piccola foto e una telecamera quindi in realtà non c'è nulla di troppo spaventoso signore salga qua dietro bravo così si fa e adesso direi di tornare in centrale e abbandoniamo abbiamo finito il turno ragazzi basta è quasi tutto il giorno che siamo qua noi abbiamo il turno naturalmente più lungo rispetto agli altri agenti perché gli altri agenti possono essere intercambiati molto spesso invece noi siamo quasi unici in questa città abbiamo praticamente quante? 2-3 persone e basta? ok eccoci qua bene 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 ragazzi ok terminiamo qua che ne dite quindi grazie a tutti della visione mi raccomando lasciate un like se questo episodio vi è piaciuto iscrivetevi perché è molto importante che vi iscriviate così potete ricevere le notifiche dei miei nuovi video appena escono e non ve li perdete ragazzi c'è anche una campanella vicino alla parola e il pulsante iscriviti che appunto serve per ricevere le notifiche sul telefono riguardanti i miei video è molto importante anche le live detto ciò in descrizione c'è il link per comprare la mia maglietta e la mia felpa ufficiale e anche per seguirmi su instagram e facebook instagram è molto importante perché condivido un sacco di foto e storie mentre invece facebook è un po' meno importante però condivido sempre i nuovi video quando escono così magari le feed di youtube non vanno ma in realtà su facebook lo vedete e lo potete guardare in descrizione c'è anche il link per comprare questo gioco se volete e direi che finisce qua grazie a tutti mi raccomando lasciate il like arrivederci all units we've got a driver under the influence grazie a tutti